Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli tra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la provincia 1.500 persone e attività commerciali, 101 le sanzioni complessive, non solo anti-covid ma anche in particolare per contrabbando di sigarette e gioco d'azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto Napoli città a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Più in dettaglio il dispositivo composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi delle compagnie di Torre Annunziata e Giuliano, ha portato alla contestazione di sanzioni in città tra i quartieri Barra, Ponticelli, San Ferdinando e Vomero, a carico di 55 tra persone senza mascherina, in strada senza validi motivi oppure che consumavano all'interno di Barra. Il primo gruppo ha scoperto nel quartiere Miano presso un circolo privato una bisca clandestina e sottoposto a sequestro sei videopoker, denunciati e sanzionati per violazione della normativa anti-covid il gestore e i giocatori. Nelle immediate adiacenza dell'area portuale, il secondo gruppo ha sanzionato 20 persone sorprese in strada senza comprovati motivi, fuori dal proprio comune di residenza o durante il coprifuoco. Altre sanzioni anti-covid sia a persone che ad esercizi commerciali tra Portici, San Giorgio a Cremano, Quarto, Bosco Reale, Melito, Qualiano, Marano, Torre del Greco, Grumo Nevano, Crispano, Castellamare di Stabbia e presso il molo commerciale di Capri, anche grazie a segnalazioni di cittadini pervenuti alla sala operativa del comando provinciale tramite il numero di pubblica utilità 117. Grazie a tutti.